È il Rosso Natale, il cocktail che l'Accademy Toscana lancia per brindare alle festività ormai alle porte. Ha il colore inconfondibile delle feste e il sapore assolutamente contemporaneo e di tendenza dello zenzero. L'occasione in cui i barman della Federazione Italiana hanno preparato questo sparkling natalizio è stato il tradizionale scambio di aguri tra corsisti, docenti e vertici dell'Accademy Toscana in Versilia al fanatico di Viareggio, estratto di melograno, sciroppo allo zenzero, spumante metodo classico e il Rosso Natale è servito, ovviamente in coppetta, a fare gli onori di casa Cesare Funel, responsabile Academy Fib Toscana e Federico Salvetti, segretario nazionale. Insieme a loro tanti giovani docenti e corsisti pronti a vivere in 2018 ancora all'insegna della crescita professionale e del bere consapevole, i due capisaldi della filosofia Fib. E a proposito di nuovo anno, secondo la Federazione, nel settore drink 2018 ci sarà ampio spazio alla miscelazione, con un ritorno importante del barbon whiskey, vero protagonista in attesa dell'estate, dove probabilmente anche in Versilia arriverà la moda del sake, già dilagante a Milano e nelle grandi città del nord.